Mirko, car tablet, Volkswagen Turan, arrivato. Eccolo qui, ti faccio una dimostrazione prima di spedire. Ovviamente c'è tutta la pellicola protettiva. Andiamo in gestione musica. Qui hai tutti i contenuti. Stessa cosa per quanto riguarda video. Via Voce e Brutut, streaming musicale, dub. E poi abbiamo tutte la sezione Android. Grazie. 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 Domani spedisco. Un saluto e ti ringrazio. Hai anche il DSP? Grazie. Grazie.